a fine anni 90 no aspetta le difficoltà invece nel nostro lavoro sono sono molto di più rispetto alle soddisfazioni quindi ragazzi cambio lavoro vigneti vecchi di 30 40 50 anni padova con i suoi musei per il suo importante stile architettonico ha uno stile architettonico molto capitano ma tipo mi ha metterato parole ascoltate ora vediamo capitano ma mi ha scritto più semplice no perché anche l'aria mi sposto quali sono state le sfide più grandi che ha dovuto ci potresti raccontare il tuo tai rosso e la sua e la sua garganega e le etichette che hai la vendemmia si protrae verso metà metà ottobre il tai rosso è un vitigno autoctono e il vino viene affinato successivamente ripeto si appressa il naso e flora basta la macerazione delle bucce dura 15 giorni e il vino viene affinato senti che roba che marmite chi chiese spezie dolci come non aspetta che qua mi incarto perché un vino dedicato ad elia che è il nostro piccolo bambino no 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 non ci sono